Io c'ho tutte le serie di guadagno con i click! Ragazzi, Busek dice che la partnership di YouTube pagano anche con i click! Solo a Busek però, in tutto il mondo solo a Busek pagano con i click! Ma adesso verrà in chiamata a dircelo! Non lo smerderò io, eh? No, 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 no! Chiamerò il mio capo colui che mi ha dato la partnership, colui che mi paga, colui che comanda la partnership e glielo faccio dire da lui se la partnership paga con i click! Vediamo come lo smerdiamo, dai! Quando verrà, lo chiamerò al telefono! Ho anche detto che ho un vocabolario solo di risate in tutte le lingue Scegliete una risata e dopo averlo smerdato riderò ancora la lingua Ecco io, bimbo minchia, come al solito ragazzi, mi dice in privato non ho il microfono Perché non può far sentire la vocina, capito? Ma è normale, no? Sì ragazzi, Busek è veramente troppo intelligente ragazzi Perché adesso chi ha il fisso non può mettere il microfono Scuso fisso, però ho trovato un buco dietro, ho inserito lo spinotto e il microfono funziona Sarò scemo io allora, dai! Ma mia, ma Busek, stai solamente facendo figure di merda su figure di merda Finisci, la vai a letto, dai! Busek, non ti voglio più un chiamata, se non hai microfono non metto gente in muta Ti dà un consiglio, vatti a leggere i contratti delle partnership Vai a parlare con chi dà le partnership, poi vediamo se le partnership pagano a click Stai parlando di Youtube, non stai parlando di siti, eh? Studia caro, studia, cresci più che studiare Se studiato sarai cresciuto, credo Una volta che sarai cresciuto vuol dire che avrai studiato Ma se studi senza crescere O cresci senza studiare Nabbo sei e nabbo rimani, eh? Non c'è nulla da fare Chi nasce tondo non può morire, quadrato Se viene a dire a me, Luke non hai le palle Guardatelo, Luke ti cagli? Pirla, sei tu che stai dicendo che non c'hai il microfono, eh? Sei tu che stai dicendo che le partnership pagano 5 euro a click? Madonna! Madonna ragazzi, veramente Se avessi un pentolone grosso, devo mettere dentro la pentola, veramente Farei pulito il video Non ho tempo da perdere con te Io a Berlusconi e Monti che dovevo uscire con loro sto perdendo tempo con te, veri tu? Avevo giù l'autista di Berlusconi prima Ma che parliamo qui? Ma stai scherzando? Ma non parlo più con te Tanto ho già capito che persona sei Devo continuare a parlare con te Gli youtuber ragazzi Gli youtuber che hanno la partnership Guadagnano 5 euro a click Ora la partnership si guadagna a click Seguendo la teoria di Busek Busek, scrivi qui, fai quello che vuoi Non ti caga nessuno Finite Fidati Non ti metto in chiamata Non so chi sei Non ho mai fatto un video contro di te Non mi venire a dire e non ti permettere mai più di fare video contro di me Perché ti ripeto Non ti ho mai cagato Non so chi sei E non ho fatto video contro di te Luke non hai le palle Veramente ne ho 4 comunque Sei invidioso anche di quello? E dai Dai basta Dark e giochi 99 Ah e quindi Non dovevo fare quel video Scusami eh Vai a minacciare i bambini Tu dici che chi si mette contro di te Gli fai chiudere i canali Devi essere il boss di youtube allora Sì esatto E con me ti ho solamente fatto un piccolo commento Hai cancellato il video scusami Poi vedo che mi insulti su facebook Mi hai insultato su altri tanti video Hai 13 anni e ti permetti di insultarmi No no Arcangelo tranquillo che Busica non è moderatore sul forum Avrà sbagliato Malento È un grande del forum Sì sì ma adesso appena torna back ragazzi 10 minuti Lo faccio bannare dal forum Nel suo mondo Solo nel suo mondo però eh Che la partnership a me paga anche 5 euro a click Quando le partnership non pagano a click Però secondo lui è così poverino Lasciamoli pensare ciò che vuole Così andrà a letto rosicando ancora di più Eh tribù del re mi dispiace Ma io non guardo a dire ai miei fans Che è chiusa la questione con te Primo perché io non ho chiuso nessuna questione E la questione ve la siete cercata voi Secondo io non ho mai detto ai miei fans Di insultarti Si guadagnano 5 centesimi a click Sulle pubblicità o banner Eh buo oggetto lo ripeto per l'ultima volta Vatti a informare Anzi guarda te lo faccio dire da Andrea Adesso chiamo quello lì del Chrome's hardware ragazzi Quello lì della partnership Così lo smerdiamo una volta per tutti E poi te ne vai a nanna Se non proprio te ne vuoi andare a fanculo direttamente Allora chiamiamo Andrea Ai 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 Solo qua perché poi pensano che ci mettiamo d'accordo Vieni live un attimo Muoviti pirletta Bye bye Ok Busek sta arrivando eh Ora facciamo fare 4 risate anche ad Andrea Dai Ciao Bernard Ti faccio un riepilogo riassumendo e riassumando C'è un certo Busek che è una persona intelligentissima Che dice di avere 17 anni qua la vengo in chiamata Faccio qui non hai le palle Poi non vito in chiamata non c'ha il microfono Vabbè Eh vabbè Solito Eh poi Su Youtube capito Su Youtube adesso si guadagna a click No si guadagna a visualizzazione No ma lui dice Continua a dire a tutti quanti Che io guadagno a click Tu Andrea scusami Tu sei il capo tra virgolette di Tom Sard No Gli estisci Tom Sard E sei colui che dà le partnership Giusto? Si giusto Puoi dire a questo ragazzino Se Luke 4316 guadagna a click? Non guadagna a click Luke 4316 Ma altre partnership su Youtube guadagnano a click? Mi sape io no Ma porca troia ragazzi Porca troia voglio No niente Andrea Devo farti fare 4 risate così Giusto per Non lo so Se vuoi facciamo gli esperimenti Non lo so Vuoi che chiamiamo il capo di TGN Lo chiamo e metto in chiamata? No ma mando un email a Youtube Gli dico Ma qua si guadagna anche a click? Eh beh Oh sta cosa è nuova Non lo sapevamo Andrea Vogliamo guadagnare anche lì Così poi Oltre a fast merda Mi compro anche la telecom Musica Ma vai affanculo vai Vai No se vuoi mando un email a Francesco Quello di Youtube Non è un problema Ma scusa ma adesso sei live su stream? Si ma non sto facendo niente C'è lo schermo nero Come c'è lo schermo nero? Non posso aprire ma anche Non posso fare niente Mi cade la connessione direttamente Prima andavo a scatti Adesso mi cade proprio il split Queste emi mi fai schifo come persona Ragazzo o ragazzino Col pisellino o quel che sia Per cui già basta Non ti rispondo più Che ho messo gita? Aspetta Allora Analytics Buziec non ti faccio venire in chiamata Non hai il microfono No i banner in visualizzazione Vengono pagati a visualizzazioni Non c'è click Pitto? Look Ma io lo so Andrea Diggilo a quel ragazzino lì Bla 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 adesso è talmente scemo che non sa distinguere manco i millimetri con i centimetri cos'è i centimetri? no continua a dire che lui c'ha il pisello di 16 centimetri come se la gente gli interessano penso che non interessi nessuno no no ma bimbu? eh ma ci sei bimbu? ovvio Buzek non leggo in privato non perdo tempo con te te l'ho già detto basta e rosica quello che vuoi io quello dovevo dirti te l'ho detto ti ho fatto smerdare anche l'atmos hardware forse in te mi vergognerei non so e un po